La barzelletta di Geppo Di prima mattina un tizio visibilmente ubriaco si presenta a uno sportello, no? Come arriva lì davanti? Qui gli fa così Mi scusi? È qui che aiutano gli alcolisti? Sento molto serio, solo guarda e fa Sì, sì Come posso aiutarti? Mi mancano due euro per una bottiglia